Buongiorno a tutti cari amici del canale, nel video di oggi parleremo di un'altra protezione, una protezione che non serve per l'essere umano ma per le apparecchiature. Come ben sapete, già ampiamente discusso su questo canale, quando abbiamo apparecchiature elettroniche, soprattutto inverter e regolatore di carica, ebbene il momento in cui tutto è spento e noi andiamo ad accendere, c'è la carica istantanea dei condensatori. Ebbene questa carica istantanea dura veramente frazioni di secondo, molto molto brevi, ma la potenza erogata è altissima, si parla in alcuni casi anche di migliaia di ampere. Ebbene di solito che cosa consigliavo sul canale? Che cosa consiglio sul canale? Di caricare i nostri inverter, piuttosto che regolatori di carica, attraverso una, chiamiamola, precarica, che avviene attraverso delle resistenze come questa. Allora cosa succede? Il momento in cui la corrente passa da qui, la resistenza ne trattiene una percentuale, lasciando passare quella che serve al condensatore per caricarsi. In questo modo abbiamo un passaggio lento di corrente. Tutti quegli ampere che vorrebbero passare come attraverso un semplice cavo, non avviene perché la resistenza appunto frena. Consuma un po' di corrente, quindi passa gradualmente. Ebbene molti di voi mi hanno fatto tante domande al riguardo, ma sono essenziali. Alcuni dicono, puoi semplicemente attaccare tutte le parecchiature, tutto l'impianto, poi quando hai finito, pam, attacchi. Quello che viene definito lo staccabatterie, quindi dai corrente a tutto l'impianto. Ebbene il momento critico è proprio quello, proprio perché la carica di questi condensatori è rapidissima. Nel contempo la corrente che passa è elevatissima. Ora, questo è un condensatore classico di un inverter, si trovano affiancati diciamo ai MOSFET, sono quelli che hanno una funzione di erogare potenza, di dare stabilità a tutto il circuito dove la corrente viaggia in up and down a velocità altissime. Ebbene ragazzi, quando abbiamo un impianto con un inverter e due regolatori di carica, poi magari abbiamo messo anche in parallelo un altro inverter, insomma cominciamo ad avere tanti condensatori. Ebbene io vi dico che questa è un'apparecchiatura standard, ma ci sono anche apparecchiature, che forse voi non avete mai visto, con condensatori di questa tipologia. Ebbene caricare uno di questi, attenzione non stiamo parlando dei supercondensatori, dei supercaps, dei supercapacitori, no. Quella è tutta un'altra categoria di Farad. Qui siamo nell'ordine dei microfarad, ma la potenza che entra qua, vedete qua ci sono anche degli M5 per avvitare il cavo, per connettere il cavo. Ebbene se vi dicessi anche che ci sono apparecchiature con questi condensatori. Ragazzi, dallo standard, spero che non mi cada, dallo standard che si propone sugli inverter, per arrivare a questi, poi vi farò vedere a cosa si riferiscono questi condensatori. Ebbene noi dobbiamo, sul mio consiglio, ma come sapete ognuno è sempre libero di fare ciò che vuole, dobbiamo caricare in maniera logica, ovvero precaricare i condensatori prima di accendere un impianto. Come si fa? Si usa un resistore, si usano questi prodotti molto semplici ed economici, li avete già visti sul canale. Se avete invece potenze come questa, e vedremo poi per cosa sarà utilizzata nei progetti futuri, vedete che la differenza è sostanziale. Quindi abbiamo diverse potenze da poter utilizzare. Questa è una standard, quindi questa è 100 Watt, se non sbaglio, questa è 100 Watt 15 Ohm, con questa possiamo caricare qualsiasi cosa. Usiamo questa solo se abbiamo cose veramente significative. Bene, quindi quando abbiamo un inverter, piuttosto che ibrido autoroidale, oppure abbinato c'è anche un regolatore di carica, o due o quattro, come nel video, nella playlist che sto realizzando sul Victron con quattro regolatori di carica, e il Victron 4 da 15.000 V A, ebbene tutti questi condensatori quando noi agganciamo fanno partire un botto di corrente, le batterie fanno partire un botto di corrente e potremmo avere delle problematiche. Dove? Presso tutte quelle apparecchiature che purtroppo sono sensibili ai passaggi di corrente altissima. Seppur per breve periodo, questa corrente è altissima, quindi alcuni integrati, alcuni circuiti, alcune apparecchiature che sono delicate, alcuni MOSFET anche, perché quando sentono questo passaggio può darsi che vi danno l'allarme, può darsi che si bruciano. Allora a volte quando si fanno dei test o delle verifiche, come mai si è bruciato un componente, un inverter, a volte non si riesce a risalire proprio perché questo danno è visibile solamente se cominciamo a lavorare nelle verifiche con gli osceloscopi e quant'altro. Quindi nel Fai da te noi ci troviamo con un inverter bruciato, con un regolatore di carica bruciato. Molte di voi sanno quando agganciando l'Epever, bam, parte una scintilla. Guardate nei video che ho fatto dove c'è la connessione dell'Epever che ha dentro dei condensatori di questa tipologia e sono diversi. Ebbene, quando agganciamo la nostra batteria, bam, parte la corrente. Ora, noi possiamo attaccare tutto e attacchiamo la batteria alla fine. Sì, ma questa corrente è passata in maniera così prepotente attraverso i circuiti. Questo non va bene. A questo punto che fare? Ragazzi, pochi secondi e vediamo la sigla, la solida immagine iniziale. Dopodiché entriamo nei dettagli, vedremo i quattro semplici componenti che ci servono per creare questo circuito di precarica che utilizzeremo solo e soltanto ogni volta che spegniamo l'impianto per fare manutenzione e a un certo punto diremo ora riaccendiamo. Quando riaccendiamo, vogliamo accendere nel giusto modo. Buona visione. Prima di farvi vedere l'assemblaggio di questi pochi componenti, ho preparato la solita lavagna che può spiegare bene che cosa succede a un condensatore e quindi alle batterie, l'inverter, quando c'è questa accensione, quando si riaccende l'impianto. Ovviamente ragazzi, se l'impianto vostro è come deve essere, sempre costantemente acceso in produzione eccetera, potete fare il cosiddetto resistore portatile, quindi lo usate all'occasione, pam, mettete lì ed è una cosa molto più semplice. Se invece avete l'abitudine di spegnere e accendere i vostri impianti e questo capita soprattutto nelle baite, sulle barche piuttosto che sui camper, allora questa continua accensione e spegnimento, vi obbliga o vi suggerisco di avere il cosiddetto resistore permanente, cioè posizionarlo sulla vostra barca in maniera permanente e dopo vedremo come si fa. Allora questa è una lavagna che ho posizionato su due elementi, ascisse e ordinate, corrispondono esattamente a ampere e tensione rispetto al tempo di carica del condensatore. Il momento in cui noi accendiamo l'impianto, cioè chiudiamo lo staccabatterie, diamo corrente, che cosa succede al nostro impianto? Riceve una botta di corrente, proprio perché i condensatori vanno a caricarsi. Come avviene questa carica? Il contrario delle batterie, non è lenta, progressiva, con gli ampere che diminuiscono, qui la botta è istantanea. Ad esempio il condensatore si trova al punto zero, cioè sono scarichi. Quindi questi condensatori sono scarichi, non si rovinano, non sono come le batterie che non devono mai scendere sotto una certa tensione. Il momento in cui noi diamo corrente, la tensione sale rapidamente e poi si stabilizza. Alla tensione di circuito, se un impianto 12 volt, 24 volt o 48 volt, è arrivata. Vedete che la salita è molto rapida, proprio perché la carica è velocissima. Adesso guardiamo la cosa più importante, la corrente, cioè gli ampere che rientrano. Il momento in cui accendiamo non c'è una carica lenta del condensatore, ma è istantanea. Millisecondi, ebbene abbiamo una salita degli ampere fino a qualche migliaia, può essere mille, duemila, tremila ampere. Per quanto tempo? Pochissimo. Pam! Subito si scarica l'energia che è entrata un secondo prima. Ebbene abbiamo, come avete visto, sui volt, bam! Una salita, stabilizzazione. Sugli ampere, picco istantaneo e poi discesa, crolla l'amperaggio perché sono già pieni. Però in questo punto, che è il punto della accensione, noi possiamo avere per qualche millisecondo mille, duemila, tremila ampere che sono passati dal vostro BMS, dai MOSFET, da alcuni integrati, dalle resistenze, insomma, in tutti quei circuiti che purtroppo ne subiscono questo shock, questa velocità, questa rapidità in termini di ampere. Adesso vediamo quali componenti servono e faremo un'installazione fissa. La farò qui nell'impianto da 24 volte che avete già visto, con le batterie al piombo, con il bestione arancione. È una cosa questa che consiglio soprattutto anche sul litio, perché prima di tutto c'è il BMS e questo può subire dei traumi enormi. Vediamo quali sono i componenti e come vanno assemblati. Qui vedete l'impianto 24 volt che già conoscete. Qui ci sono le batterie al piombo della forklift. Questo è un fusibile e questo è lo staccabatterie, cioè accendendo la corrente va a alimentare tutto l'impianto, entrando prepotentemente nell'impianto, passando quindi per caricare i condensatori. È proprio qui, prima, che mettiamo il punto di aggancio del nostro resistore. Possiamo farlo direttamente qui e passerà di qua per andare a riconnettersi dopo lo staccabatterie. Ecco, montato il primo cavo, quello che congiunge il bullone pre-staccabatterie, su questo cavetto ho messo anche, vedete qui, un terminale, un puntalino. Eccoci al secondo step, posizionamento di questo interruttore magnetotermico. Io lo sapete che non mi fido di questi, però quando devo fare un utilizzo come questo, molto semplice, allora va bene. Questo praticamente, quando sarà montato il resto, lo accendiamo da qui. Lui caricherà i condensatori passando dalla resistenza, dopodiché sganciamo. Ecco posizionato oltre allo staccabatterie e l'interruttorino, questo pezzo di cavo con i due puntalini, su questo morsetto, questo mammut, perché deve connettere anche il pezzo di resistenza, quindi si crea una connessione molto più semplice in questo modo. Qui c'è il resistore, nel caso specifico 100 W, 15 Ohm, e qui un altro mammut che andrà adesso a legare il cavo sull'ultimo, cioè l'ultimo pezzo che andrà a legare, quindi il polo. In questo modo vedete che il passaggio è esattamente quello che ci serve per saltare lo staccabatterie generale. Ed ecco l'ultimo pezzo di cavo, qui come vedete non l'ho fissato, questo è ancora mobile, perché? Perché se lo fisso e adesso accendo tutto funziona, ma io voglio farvi vedere proprio così che cosa succede a livello di ampera, a livello di scintillazione, in modo da farvi capire l'importanza di questo posizionamento. Ora ripeto, questo è fisso per gli impianti che di solito spegnete tutti i weekend, tutti i giorni, quindi per un uso continuo di spegni-accendi, spegni-accendi, mentre se no potete fare anche questo pezzo portatile, magari anche senza interruttore, tanto nel momento in cui connettete le scintille non saranno più potenti, perché sarà questo resistore a far rallentare tutto l'ingresso. Adesso accendiamo. Allora, l'accensione avviene con l'inverter spento, cioè noi stiamo dando corrente dalla batteria verso l'inverter, quindi qui se accendiamo non succede nulla, perché passa la corrente, ma non ha ancora toccato qua, perché vi ripeto, questo è, l'avete visto, mobile. Ma adesso vediamo, quando io avvicinerò a questo, che cosa succede. L'avete visto? Niente. E si sono caricati i condensatori, cioè è bastato un secondo. A questo punto noi cosa facciamo? Accendiamo questo. E stacchiamo questo. Abbiamo precaricato i nostri condensatori dell'inverter, e a questo punto possiamo anche accendere l'inverter. Ci sarà qualche secondo di attesa, le ventole che partano. Ecco che si è innescato. Perfetto. Vedete? L'inverter è partito, tutto è funzionante, tutto è perfetto, zero scintille, avete visto lì. Adesso però vogliamo fare una prova al contrario, cioè connettendo questo punto dove non c'è appunto la resistenza. Ho staccato il resistore, vedete? Ho connesso il cavo prima, e qui siamo presente su batteria, polo positivo. Voglio fare questo esperimento per farvi vedere cosa succede quando noi connettiamo questo al polo positivo, ed è esattamente quello che succede qua dentro, quando noi attacchiamo. Questa BAM, questa carbonizzazione, è nociva per questo apparecchio, ma soprattutto, come spiegato nel video, per tutta l'elettronica che c'è. Prima se abbiamo il BMS con le litio, sui morsetti delle piombo, se non sono fortemente affrancati, perché è uno shock anche lì, seppur minimo, ma soprattutto su tutta l'elettronica che c'è in termini di MOSFET, circuiti e quant'altro. Vediamo la connessione diretta tra i poli. Avete visto? Una scintilla brevissima, ma potentissima! E guardate cosa ha fatto, vi avvicino la camera per farvi vedere la scottatura, la bruciatura del rame, che chiaramente dopo 1, 2, 10 volte diventa un falso contatto. Vedete? Lo state vedendo in diretta. Ed ecco ragazzi il lavoro finito dal fusibile, cioè prima dello stacca batterie. Partiamo col cavo, mettiamo... Io ho messo questo che avevo in magazzino, ma potete ovviamente posizionare qualsiasi interruttore. Poi saliamo, passiamo nel resistore e ritorniamo sulla nostra barra equipotenziale. In questo modo noi abbiamo fatto la precarica dei condensatori, del nostro inverter, e eviteremo di fare degli shock in termini di corrente sulle apparecchiature. Come si accende? Semplice. Precarica, quindi adesso si stanno caricando i condensatori lentamente attraverso la resistenza. Poi accendiamo questo e non abbiamo creato nessun disturbo. Dopodiché passiamo all'accensione del nostro inverter. Lui si accende, fa la sua procedura, parte con la ventola e siamo pronti all'utilizzo. Una cosa importantissima quando abbiamo precaricato è sganciare la precarica, in modo che l'alimentazione rimane solo sul busbar principale e non certo attraverso questo cavetto. Se avete paura di questo potete mettere anche, invece che questo interruttore fisso, uno pulsante. Quindi schiacciate con la sinistra, avete caricato, poi subito accendete questo, dopodiché questo si è sganciato in automatico. Questa è una scelta sicuramente vostra. Adesso spegniamo, visto che abbiamo staccato tutto l'impianto. Le considerazioni finali sono brevissime perché il video è stato, spero, molto dettagliato. Se non avete capito qualcosa ovviamente potete rivolgere le domande sempre qua sotto ai commenti a beneficio collettivo e ci tengo molto a divulgare la mia conoscenza. Avete visto pochi prodotti assemblati rapidamente e questo lo riconsiglio per coloro che hanno sempre accendi e spegni dell'impianto, quindi sui mezzi mobili, barca, camper, piuttosto che baite. Se invece il vostro impianto è permanentemente acceso come deve essere per le abitazioni e quant'altro, allora potete fare semplicemente il resistore con due cavi mobili, in modo da appoggiare, caricare e poi agganciare quello che è la mandata generale della corrente, ovvero lo staccabatterie. Bene ragazzi, spero il video sia stato d'aiuto, fatemelo sapere, iscrivetevi a questo canale se vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo. Buona serata.